Fratelli e sorelle, benvenuti nella nuova allocride che sta sorgendo. Un allocride che oggi noi, io come principe, principe regnanti di Argento, questo stato invisibile, vi do il benvenuto. In questo nostro giorno, giorno domini, giorno domini nuovo, che oggi nello stato di Argento che vede contapporsi la richiesta di nuove, forti, eccessive proposte, noi anno domini, dobbiamo noi principe, noi casa reale di Basiliano, Basiliano I, deve dare l'esempio a voi cittadini. Ringrazio molto portico.